e per la porta sul mondo questa volta ci rechiamo in Africa e per le nostre curiosità mondiali andiamo a vedere come si sta comportando la nazionale della Jamaica il focus di oggi ci porta in Giappone il focus di oggi ci fa soffermare sul Cile il focus di oggi ci fa avvicinare al Portogallo la squadra stavolta ci avviciniamo a uno dei club più prestigiosi del mondo e adesso siamo a casa, anzi siamo a Calcio Mondo il rotocalco di storia, cultura e tradizioni calcistiche internazionali in onda su Telecapri Sport